Oggi torna a misurella da Milano, io c'ho da fare, c'ho all'impiccio devo andare via Gli dovresti dare le chiavi di casa Non puoi aspettarla tu stasera che viene e gli dà le chiavi? Ti ho detto te no, devo andare a casa mia in montagna, c'è presente? Eh, tu gli dovresti dare le chiavi di casa, eccole qua Ok? Tu vai a casa mia, tanto stai tranquillo là Gli dai le chiavi di casa quando è arrivata e te ne vai, va bene? Va bene, va bene Tutto chiaro? Sì, sì, tutto chiaro